Un progetto europeo chiamato SPIDI si tratta di una piattaforma informatica della quale la regione Abruzzo si è resa capofila per la corretta applicazione della direttiva europea sulla valutazione strategica ambientale. Nel caso specifico si punta a creare una linea di comune accordo con tutti i paesi che si affacciano di fronte alle coste abruzzesi in un'ottica che renda possibile attuare strategie condivise per il futuro. Con la presenza delle regioni Marche e Molise e di diverse realtà istituzionali della Croazia, della Serbia, dell'Albania e della Grecia siamo riusciti a condividere una linea d'azione attraverso degli specifici e puntuali punti di convergenza per come muoverci in maniera uniforme. Il progetto prevede fondi stanziati dalla comunità europea con un capitolo dedicato alla regione Abruzzo. Compressivamente il progetto finanziato dalla comunità europea è di 2 milioni e 400 mila euro. A beneficio della regione Abruzzo vanno appunto 400 mila euro che vengono investiti in realizzazione di questa piattaforma e di tutti gli altri eventi e investimenti collaterali. Si punta a creare una rete che possa rendere più forti le regioni anche a livello europeo, soprattutto in ambito decisionale. E così il progetto Spidi fa da apripista forte della battaglia tuttora in corso per bloccare la petrolizzazione delle coste. Certamente viene generata da un modo di approcciarsi al nostro mare che secondo noi non è più al passo con i tempi e soprattutto non corrisponde a quei criteri di massima e reale sostenibilità che noi vogliamo imprimere alla nostra regione, al nostro modo di intendere la regione Abruzzo. Grazie.